Ti sei mai accorto, ti sei mai accorta che ci sono persone che lavorano insieme a te, sono molto meno competenti di te eppure guadagnano più soldi, scalano le vette della tua azienda nonostante le loro competenze tecniche siano inferiori magari anche alla maggior parte delle persone che le circondano. Ma com'è possibile questa cosa? Ebbene, noi psicologi abbiamo studiato una cosa che potrebbe sembrare abbastanza banale, cioè la qualità delle tue competenze trasversali, cioè la capacità di entrare in relazione con le altre persone, le capacità di comunicare efficacemente con gli altri valgono di più delle tue competenze tecniche. E oggi vedremo insieme come aumentare anche di poco le tue abilità comunicative potrebbero alzare il tuo stipendio. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale da Gennaro Romagnoli, psicologo psicoterapeuta. Oggi voglio parlarvi di una cosa davvero importante, come le competenze trasversali, quelle che spesso vengono chiamate soft skills, possano letteralmente innalzare lo stipendio. Sì, avete capito bene, non si tratta solo di quanto siete bravi tecnicamente, ma anche di come comunicate, di come sapete gestire le relazioni e di quanto siete capaci di farvi capire. Restate con me perché questo può fare davvero la differenza nella vostra carriera. Ciao, volevo dirti al volo che tutti i nostri percorsi sono in offerta per il Black Friday. Puoi trovare percorsi per la gestione dell'ansia, delle emozioni, per volerti più bene, per meditare e tanto altro. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ora probabilmente avrete già sentito parlare di competenze trasversali, ma lasciatemi fare un po' di chiarezza. Le soft skills sono tutte quelle abilità non tecniche che ci aiutano a relazionarci con gli altri e a gestire le situazioni. Le situazioni interpersonali, parliamo di comunicazione, empatia, capacità di ascolto, gestione del tempo, solo per citarne alcune tra le più famose. Ma quello che è davvero interessante è quanto tali competenze abbiano un impatto sul nostro successo. E non parliamo solo di successo personale, ma anche e soprattutto di successo finanziario. Sì, avete capito bene, oggi parliamo di soldi, di skei, come si dice qui in Veneto. La Stanford Research Institute International e la Carnegie Mellon Foundation hanno scoperto che ben il 75% del successo a lungo termine dipende dalle competenze trasversali, mentre solo il 25% è legato alle competenze tecniche. Questo significa che indipendentemente da quanto siete bravi in un campo specifico, la chiave per fare davvero carriera e quindi per ottenere uno stipendio più alto sta nel come vi relazionate e come comunicate con le persone sul vostro campo di lavoro, sul campo di battaglia dove ognuno di noi avete capito. Ora un piccolo inciso. In realtà soft skills è una distinzione che si faceva nel campo dell'industria pesante. Questo termine viene fuori appunto per differenziare le persone che lavoravano all'acciaio, con la forza dei muscoli, roba pesante, invece chi lavorava col colletto bianco in ufficio. Quindi in realtà soft non significa che siano di minore valore, anzi se diamo bene un'occhiata agli studi sembra che abbiano un valore altrettanto importante quanto le conoscenze tecniche, anzi a volte purtroppo anche di più. In un altro studio condotto dalla Harvard University, Kernighan Foundation and Stanford Research Center, oggi ve li dico tutti quanti, ha rivelato che l'85% del successo lavorativo, 85% lo ripeto, del successo lavorativo dipende dalle competenze trasversali, mentre solo il 15% è attribuibile alle competenze tecniche. Questo studio evidenzia quanto sia importante investire nello sviluppo di abilità come la comunicazione efficace e la capacità di collaborare, di entrare in relazione. Inoltre un altro studio della World Economic Forum del 2020 ha elencato le competenze più richieste dalle aziende per il futuro e molte di queste rientrano nelle cosiddette soft skills. Pensiero critico, problem solving, gestione dello stress, leadership, comunicazione efficace. Ciò significa che le aziende stanno sempre più riconoscendo il valore di queste competenze per affrontare le sfide del mondo del lavoro e del mondo moderno. Hanno compreso che la capacità tecnica non è tutta, soprattutto in questo periodo storico nel quale via via le mie e le tue capacità tecniche stanno cambiando e saranno sostituite dall'intelligenza artificiale. Ebbene sì, è bene che io te lo dica, è così. Un altro esempio lampante è il celebre Project Oxygen di Google. All'interno di questo progetto sono stati analizzati quali fossero le qualità più importanti dei migliori dipendenti. Indovina un po', indovinate un po', le competenze tecniche, le competenze tecniche, quindi saper fare il proprio mestiere, era all'ultimo posto di questa classifica. Ciò che contava di più erano abilità come la capacità di fare da coaching alle altre persone, di comunicare, di motivare, la capacità di comprendere gli altri e di avere empatia. Ed ecco la bella notizia, tutto ciò che abbiamo appena detto, tutte le soft skills possono essere apprese e migliorate. È qualcosa che possiamo imparare e migliorare e che può davvero avere un impatto enorme sulle nostre possibilità di crescita. Facciamo un esempio, prendiamo Luigi. Luigi era stressato, lavorava troppo e il suo matrimonio stava per crollare, ma invece di arrendersi ha deciso di investire nelle proprie competenze relazionali. Ha imparato a comunicare meglio con i colleghi e questo ha portato a un miglioramento della produttività, una riduzione dei conflitti e in definitiva a un aumento della redditività della sua azienda. Luigi è riuscito a farsi notare dal CEO e questo gli ha permesso di scalare fino alle posizioni di Chief Operating Officer, cioè SO, SO, CO, scusate tutte queste sigle aziendalesi. Sviluppare le soft skills non ha solo salvato la carriera di Luigi, ma ha anche migliorato la sua vita personale permettendogli di trascorrere più tempo di qualità con la propria famiglia. Lo so che questa ti può sembrare la barzelletta del mulino bianco, ma io da psicoterapeuta questa faccenda l'ho vista accadere per decenni. Faccio lo psicoterapeuta da decenni, quasi due decenni e posso assicurarti che ho visto tantissime volte persone venire da me, magari imprenditori, CEO di aziende molto importanti, che hanno migliorato la capacità di gestire se stessi, le proprie emozioni, la propria comunicazione e attraverso questo percorso di miglioramento non hanno solo aumentato le proprie capacità, le proprie soft skills, ma sono riusciti addirittura a migliorare le proprie relazioni quotidiane, sì perché imparare a comunicare meglio con le persone intorno a voi in azienda significa soprattutto imparare a comunicare meglio con le persone fuori dall'azienda, dato che il campo di battaglia più difficile sono le relazioni intime, quelle vicine, quelle interpersonali. Ora in molti si chiedono come mai le competenze trasversali abbiano un impatto così grande sul nostro stipendio. Alcuni dicono che la risposta sia semplice, le aziende cercano leader, non solo esperti e in parte hanno ragione, cercano persone in grado di comunicare una visione, di gestire un team, di risolvere conflitti, tutte queste sono abilità che fanno aumentare il vostro valore all'interno di un'organizzazione e quando il vostro valore percepito aumenta fa sì che anche il vostro stipendio aumenti. Ma non è solo questo, signore e signori, ognuno di noi sa qual è la differenza tra lavorare con un collega che è molto bravo tecnicamente ma è un po' difficile da gestire e invece lavorare con l'altro collega che è molto meno bravo tecnicamente ma è molto più semplice gestirlo. Ecco sappiamo tutti qual è la differenza. Questo non significa che dobbiamo cacciare via quelli molto bravi tecnicamente ma dobbiamo convincerli che le abilità sottili, leggere, le soft skills sono molto di più del semplice voglio imparare a comunicare meglio ma invece la possibilità di tradurre quel sapere tecnico in una informazione utile per tutta l'azienda. Quindi se vuoi vedere un cambiamento nel tuo stipendio inizia a investire in te stesso in modo differente, non limitarti a migliorare le tue competenze tecniche ma lavora anche su come comunichi, su come ascolti e su come crei relazioni positive. Lo so che queste faccende le hai sentite raccontare centinaia di volte probabilmente da miei colleghi, magari sul tuo posto di lavoro sono venuti miei colleghi a raccontare quanto fossero importanti le soft skills ma tu te ne sei bellamente fregato. Ecco se per caso sei in questa condizione hai avuto la fortuna di intercettare questo video e anzi se questo video ti ha dato un po' di motivazione a migliorare il tuo modo di comunicare, iscriviti al canale. Sappiate che la maggior parte delle persone che guardano questi video non sono iscritte al canale, non è perché i video vi facciano schifo ma è la condizione generale di youtube, la gente va in giro a guardare ma poi si perde come succede a me. E dove è finito quel canale? Quindi salva questo video, metti mi piace ma soprattutto iscriviti perché questo ti consentirà di vedere tutti gli altri video, tutti gli altri aggiornamenti proprio su queste tematiche, anzi se ti piace la tematica del lavoro scrivila qua sotto e ci dedicherò qualche piccolo video in più. Ebbene come al solito miglioriamo il nostro modo di comunicare, possiamo farlo in centomila modi differenti, alcuni ve li ho suggeriti in questo video, se avete altre modalità per migliorare le competenze trasversali suggeritele qui sotto tra i commenti e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ti interessa comunicare in modo efficace in tutti gli ambiti della vita? Allora ti consiglio di dare un'occhiata al nostro master in comunicazione efficace, un coaching di gruppo di otto settimane che comprende varie video lezioni, esercizi pratici ed un gruppo whatsapp dove potrai farmi tutte le domande e ricevere feedback direttamente da me. Nel master tratteremo tutti gli aspetti della comunicazione come ad esempio l'assertività, la comunicazione emotiva, la risoluzione dei conflitti, esprimersi con chiarezza, persuasione, manipolazione e tanti altri argomenti. I posti sono limitati, ci sono solo 50 posti disponibili e penso che finiranno in fretta. Se ti interessa clicca qui sotto e dagli un'occhiata.